Ora cerchiamo di imparare a decifrare le caratteristiche di un processo stazionario a partire dalla sua densità spettrale di potenza e dalla sua autocovarianza. Lo facciamo attraverso alcuni esempi, per ciascuno di questi esempi esamineremo l'andamento nel tempo di una realizzazione, la funzione di autocovarianza e la densità spettrale di potenza. Il primo caso che consideriamo è quello di un rumore bianco. Allora, nel caso di un rumore bianco questo potrebbe essere un andamento, come sapete è un andamento completamente impredicibile, se il rumore bianco è un rumore bianco in senso stretto, perché a ciascun istante di tempo abbiamo una variabile casuale che è indipendente da tutti i valori precedenti e da tutti i valori futuri e questa è la caratteristica fondamentale. Nel caso del rumore bianco in senso lato invece abbiamo solo una proprietà di incorrelazione. La funzione di autocovarianza, come sappiamo, è di tipo impulsivo, quindi la funzione di autocovarianza per tau uguale a 0 è uguale alla varianza del rumore bianco, noi qui stiamo considerando processi stazionari, quindi la varianza è costante nel tempo e per tutti gli altri valori di tau la funzione di autocovarianza vale 0. Abbiamo già calcolato la densità spettrale di potenza e la densità spettrale di potenza invece è costante, naturalmente è periodica di periodo 2 pi greco, quindi qui potremmo prolungarla, ma abbiamo già detto che a noi basta rappresentarla nell'intervallo meno pi greco pi greco. Quindi in qualche modo possiamo dire che una densità spettrale piatta corrisponde a una funzione di autocovarianza impulsiva e quando ci riferiamo agli andamenti nel tempo ha un andamento completamente impredicibile. Consideriamo ora un secondo esempio e il secondo esempio ha a che fare con un processo casuale che ha invece un andamento più regolare. In questo caso fornisco due esempi sopra gli stessi grafici, il colore più scuro in verde, in rosso e in blu corrisponde a diciamo al primo processo casuale, il colore più chiaro sia in verde che in rosa che in azzurro corrisponde invece a un processo, a un secondo processo casuale. Cosa distingue questi due processi casuali? Se li esaminiamo dal punto di vista della funzione di autocovarianza, in entrambi i casi abbiamo una funzione di autocovarianza che è sempre positiva e che decade più o meno lentamente verso lo zero mano a mano che tau va all'infinito o tau va a meno infinito. Noi sappiamo che la funzione di autocovarianza è una funzione pari quindi avremmo in realtà anche potuto descriverla solo per tau positivi. Allora nel caso del processo casuale con il colore più scuro abbiamo una funzione di autocovarianza che va a zero e la densità spettrale di potenza in questo caso è una densità spettrale di potenza che è in qualche modo concentrata di più nella regione dei valori di omega piccoli, dei valori di omega vicini, vicini all'origine. Un processo casuale di questo tipo ha un andamento relativamente regolare, questo andamento in verde scuro e questo andamento deriva dal fatto che la covarianza tra il valore del processo e il valore a un istante successivo, quindi questa è la covarianza cosiddetta di passo 1 in questo punto, quindi qui è tau uguale a 1, questa autocovarianza di passo 1 è positiva e ha un valore non molto diverso da quello della varianza, quindi se noi calcolassimo il coefficiente di correlazione tra x di t e x di t più 1 troveremo un coefficiente di correlazione relativamente elevato e positivo, per esempio potremmo trovare uno 0,7, uno 0,75. Questo cosa significa? Se consideriamo che il nostro processo abbia valore medio nullo per semplicità significa che se x di t è positivo noi ci aspettiamo con una buona probabilità che il prodotto x di t, x di t più 1 sia positivo e quindi che in qualche modo si mantenga il segno. Quindi quando il processo casuale assume dei valori positivi tende a mantenerli almeno nel breve periodo, naturalmente stiamo parlando di proprietà probabilistiche, quindi non è impossibile che a un certo punto invece il segno ovviamente cambi, però vedete in questo disegno che il processo casuale tende a mantenere il segno, anche perché la covarianza tra x di t e x di t più 2, che potete leggere qui, questa è l'autocovarianza di passo 2, continua a essere positiva, per esempio potrebbe essere un coefficiente di correlazione ancora relativamente elevato, 0,65 per esempio. E quindi di nuovo se il segno di x di t era positivo, anche due passi dopo c'è una covarianza positiva e quindi ipotizzando valore medio nullo anche il segno tra x di t e x di t più 2 tende a mantenersi. Quindi un processo casuale con queste caratteristiche ha una certa qual regolarità, quindi in qualche modo noi stiamo associando l'idea di regolarità per esempio a una caratteristica facile da verificare, che è quella della permanenza del segno. Ma cosa succede invece dal punto di vista della densità spettrale di potenza? Questo è associato, scusate dobbiamo guardare il profilo rosso scuro, questo è associato a una densità spettrale di potenza concentrata intorno all'origine. Questo significa che, diciamo parlando in gergo, dominano le basse frequenze, cioè sono prevalenti i contenuti spettrali associati con valori di ω piccoli rispetto ai valori di ω vicini a π. Ricordiamo che oltre π non possiamo andare, nel senso che oltre π si riproduce periodicamente sempre lo stesso profilo. Quindi le frequenze, le pulsazioni vicine a π sono le più grandi che noi possiamo avere, quindi c'è un contenuto energetico relativamente basso per le alte frequenze e più alto per invece le basse frequenze. Ma cosa succede se consideriamo un processo che ha delle caratteristiche simili, ma in cui il decadimento della funzione di autocovarianza è più lento? Quindi qualitativamente abbiamo qualcosa di molto simile, però mentre qui la funzione di autocovarianza decadeva in questo modo, nel secondo caso con i colori più chiari la funzione di autocovarianza decade più lentamente. Facendo i calcoli della densità spettrale di potenza si vede che questo conduce a questa seconda densità spettrale di potenza più chiara, che rispetto a quella rossa, scura, è ancora più concentrata intorno all'origine. Forse potete ricordare che nel caso in cui la gamma fosse perfettamente costante, la densità spettrale, usando la teoria delle distribuzioni, sarebbe addirittura divenuta impulsiva. Quindi mano a mano che il decadimento è più lento, si assiste a un picco più alto e più diretto nella densità spettrale di potenza. Risulta ovviamente di interesse capire cosa succede nella realizzazione del processo casuale. Nella realizzazione del processo casuale, quello che si vede è che la tendenza a mantenere il segno è ancora più forte, per cui in colore più chiaro, verde più chiaro, abbiamo rappresentato questo secondo processo casuale. Vedete questo processo casuale è ancora più regolare, nel senso che per esempio i suoi scavalcamenti dell'asse delle ascisse sono più rari e in qualche modo ha un profilo che potremmo definire ancora più regolare. Quindi da questo esempio noi impariamo che una funzione di autocovarianza che decade lentamente a zero è associata con un profilo che potremmo chiamare di tipo passabasso della densità spettrale e che mano a mano che il decadimento diventa più lento questo profilo diventa sempre più concentrato intorno all'origine e che per quanto riguarda invece le realizzazioni nel tempo più l'autocovarianza decade lentamente a zero e più è concentrata intorno all'origine la densità spettrale più assistiamo a un profilo temporale molto regolare con pochi cambiamenti di segno. Riguardo al cambiamento di segno vi ricordo sempre che noi stiamo ragionando con valore atteso pari a zero. Se il valore atteso fosse invece diverso da zero in quel caso parleremmo di passaggi sopra o sotto la linea del valore atteso del processo stazionario. Vediamo ora un terzo esempio. In questo terzo esempio invece prendiamo una funzione di autocovarianza molto particolare. In questa funzione di autocovarianza di nuovo abbiamo il modulo della funzione di autocovarianza che decade verso lo zero e la linea di decadimento è quella che è indicata diciamo in azzurro chiaro ma decade cambiando continuamente di segno. Quindi l'autocovarianza di passo zero come sempre è la varianza, l'autocovarianza di passo uno è negativa, quella di passo due è positiva, quella di passo tre è negativa e così via. Questo significa che se io calcolassi il coefficiente di correlazione tra x di t e x di t più uno dovrei basarmi su questa covarianza che essendo negativa mi daremmo un coefficiente di correlazione negativo. Siccome il modulo di questa covarianza non è molto più piccolo della varianza il coefficiente di correlazione avrebbe un modulo relativamente elevato. Per esempio questo potrebbe essere un coefficiente di correlazione di meno 0,8. Cosa significa avere un coefficiente di correlazione di meno 0,8? Sempre per semplicità ipotizziamo il valore atteso nullo. Significa che se a un certo istante il processo casuale assume un valore positivo con probabilità elevata il prodotto tra x di t e x di t più uno è negativo, quindi ci aspettiamo che tenda continuamente a cambiare di segno. Quindi questo è un processo casuale che ovviamente non in maniera deterministica ma che con grande probabilità se ad un certo passo è positivo al passo successivo diventerà negativo. Quindi si vede un caratteristico andamento oscillante, oscillante potremmo dire proprio ad alta frequenza, quindi un andamento molto irregolare. Ecco, attenzione che irregolare non significa impredicibile. Qui è un po' come quando giocate a pari e dispari nascondendo le mani dietro la schiena. Se il vostro avversario una volta mette pari, una volta mette dispari, in qualche modo lui continua a cambiare ma è fortemente predicibile. Quindi questo processo ha un aspetto molto irregolare ma in realtà è abbastanza predicibile, cioè se a un certo punto lo vedete positivo dovete scommettere che al passo successivo diventerà negativo. Che cosa succede alla densità spettrale di potenza? Se si trasforma, si fa la trasformata di Fourier di questa funzione di autocovarianza, si ottiene una densità spettrale di potenza di questo genere in cui predominano invece le alte frequenze. Ricordiamo ancora una volta che le pulsazioni più alte possibili sono quelle intorno a pi greco. Quindi le pulsazioni piccole vicine all'origine hanno, diciamo, un contributo, danno un contributo piccolo alla densità spettrale che invece sale mano a mano che ci avviciniamo. Ecco, in questo caso si dirà che dominano le alte frequenze, in qualche modo la funzione di densità spettrale è formata prevalentemente, diciamo pesano di più nella sua composizione, le cosinusoidi veloci, mentre invece in precedenza avevamo visto una situazione in cui predominavano le cosinusoidi lente. Quindi questo è un altro caso interessante, in qualche modo è il caso opposto rispetto a quello precedente che era un profilo di tipo passabasso, qui invece abbiamo quello che potremmo tranquillamente definire un profilo di tipo passa alto. Vediamo un ultimo esempio. In questo esempio invece consideriamo una funzione di autocovarianza che ha un caratteristico andamento oscillatorio e che contemporaneamente oscilla ma anche decade verso lo zero, una specie di oscillazione smorzata, oscillazione smorzata che mantiene un suo periodo caratteristico che possiamo chiamare t. Ecco, che cosa succede in questo caso? Per esempio succede che tra l'istante t e l'istante t più 2 la covarianza è negativa, quindi io mi aspetto che tra t e t più 2 ci sia un cambiamento di segno, ma anche mi aspetto che all'istante diciamo 1, 2, 3, 4, tra t e t più 4 di nuovo ritorni una covarianza positiva e quindi un coefficiente di correlazione relativamente elevato. Questo si traduce, quando andiamo a esaminare la realizzazione, nella presenza di oscillazioni non perfette, perché abbiamo a che fare con un processo casuale, sono delle oscillazioni le quali però mantengono diciamo un periodo tipico, quindi se uno va a esaminare la tipica distanza che c'è tra due picchi, ovviamente questa non sarà sempre perfettamente uguale, però mediamente troverà una certa periodicità media e questo periodo è lo stesso periodo che poi se diciamo disponessimo della funzione di autocovarianza ritroveremmo nelle oscillazioni della funzione di autocovarianza. Se andiamo a trasformare, secondo Fourier, questa funzione di autocovarianza troviamo una densità spettrale abbastanza caratteristica in cui si evidenzia un picco di risonanza, sempre per, siccome è una funzione pari, se c'è un picco di risonanza in ω segnato, ne troveremo un altro in meno ω segnato. Dove è collocato questo picco di risonanza? Lo si ottiene con la tipica relazione che collega periodo e pulsazione, quindi ω segnato uguale 2π diviso t. Quindi se avete a disposizione la densità spettrale di potenza e vedete un picco di risonanza di questo tipo, potete andare a verificare cosa vale ω segnato e attraverso questa relazione potete trovare il periodo che vi aspettate nelle oscillazioni. Viceversa, se vedete una realizzazione del tempo in cui vedete degli andamenti ripetitivi, anche se un po' irregolari e sporcati dalla casualità, se individuate la periodicità media sapete già che avrete un certo picco di risonanza nella densità spettrale di potenza. Naturalmente lungo questa strada potremmo anche immaginare situazioni più complesse in cui, per esempio, nello stesso processo casuale ci sono diversi picchi di risonanza collocati su diverse frequenze. Per esempio chi analizza gli elettrocardiogrammi fetali potrebbe trovare diversi picchi di risonanza legati, per esempio, alle pulsazioni del cuore del feto e le pulsazioni del cuore della madre, che potrebbero essere su frequenze non perfettamente uguali. Ecco, infine, per concludere questa lezione sulle densità spettrali di potenza, definiamo anche la densità cross spettrale. Quindi in questo caso siamo in presenza di processi congiunti stazionari, quindi un processo x e un processo y che sono congiuntamente stazionari, potremmo dire, e si può definire la densità cross spettrale sia come funzione di ω che come funzione di z, che è semplicemente la trasformata di Fourier della funzione di cross covarianza o la trasformata z della funzione di cross covarianza. Anche queste densità cross spettrali godono di alcune proprietà, richiamiamo quella che era la proprietà della funzione di cross covarianza, in cui se noi invertiamo gli indici x e y dobbiamo cambiare disegno tau e mettere una trasposta nel caso in cui abbiamo a che fare con processi vettoriali. Adesso noi prevalentemente lavoreremo con x e y scalari, quindi c'è un problema, non si pone, ma se x e y fossero vettoriali ci vuole una trasposta, a partire da questa proprietà si ricavano altre proprietà per le densità cross spettrali. Quindi anche in questo caso bisogna cambiare il segno di ω e mettere una trasposta, mentre invece se adoperiamo una trasformata z, bisognerà introdurre z alla meno 1 e di nuovo trasporre. Questo è quanto.